Ho ideato per te un percorso di 40 giorni per trasformare la nostra vita. Cosa vuol dire trasformare la nostra vita? Ci sono dei momenti per i quali abbiamo bisogno di portare attenzione, ci sono dei momenti che bisogna fermarci e capire cosa abbiamo imparato dal nostro tempo passato, cosa abbiamo appreso, quali sono i segnali che l'universo ci sta indicando in questo momento della nostra vita per comprendere e apprendere sempre di più con gli strumenti che abbiamo a disposizione o con tutte le informazioni che hai avuto attraverso questo canale, attraverso i miei libri, attraverso i miei audio di meditazione, sicuramente se avrai toccato in qualche modo le corde della tua anima, le corde delle tue emozioni, sono certo che questo percorso fa bene anche a te. Magari sei in un momento che vuoi espandere i tuoi pensieri, vuoi entrare nella tua consapevolezza, vuoi riuscire a trovare risposte, non solo quelle risposte che arrivano dalla nostra mente, ma essere in connessione con una sorgente, una connessione che fa parte di tutti noi. Molte volte pensiamo che il mondo del mistero, questo mondo nascosto, sia solo per alcuni eletti, ma in realtà tutti noi abbiamo questa capacità nell'entrare nel mondo misterioso, ma non fa nient'altro parte che nel mondo dell'invisibile. Quindi in questi 40 giorni andremo ad allenarci insieme, quindi faremo un percorso molto potente per apprendere tantissimi strumenti, tantissime strategie che possono essere applicate nella tua vita, nella tua quotidianità, nel tuo lavoro. Come pensai, ho scritto vari libri, il primo libro è Scopri il tuo talento, il secondo libro è Inventa la tua vita, il terzo è un percorso anche lì di esercizi che possono aiutarti, e poi il penultimo è se l'avessi saputo prima e l'ultimissimo, La tua chiamata. E attraverso la tua chiamata avrai notato che c'è anche un corso, un corso specifico di due giorni. Ma qui voglio essere al tuo fianco per 40 giorni, voglio che tu mi dai l'opportunità di essere il tuo mentore, il tuo coach. Il mentore è colui che ha già raggiunto dei risultati, il coach è quella persona che ti stimola attraverso un processo, domande, quindi unire queste due figure in questo percorso di 40 giorni può essere d'aiuto a te e alle persone che sono anche insieme a te, perché se tu migliori in qualche modo anche il tuo ambiente esterno migliora. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, visita il mio sito per vedere tutte le altre cose che noi facciamo in questo periodo di tempo e goditi, goditi il viaggio. Ma c'è un piccolo ma, una piccola premessa. Avrai notato che c'è una statistica, ma questo l'ho detta anche 25 giorni fa, prima ancora di iniziare il corso dei 21 giorni di meditazione, sono pochi, mi spiace dirlo, che arrivano fino alla fine. Ma è un vantaggio, è un vantaggio perché quei pochi sono certo che riusciranno in qualche modo, non solo con me ma anche attraverso altri percorsi, riusciranno a trasformare la loro vita e a produrre risultati concreti. E c'è questo vantaggio che se tu arrivi fino alla fine vuol dire che hai meno concorrenza. Concorrenza vuol dire correre con qualcuno. Quindi ti farai una terra bruciata, tra virgolette, ma troverai un sentiero unico, quel sentiero che ti permette di autorealizzarti, autoreferenziarti, trovare quella saggezza infinita che è dentro di te. Perché molte volte leggiamo tantissimi libri, abbiamo tantissimi strumenti in mano, ma se non c'è nessuno che ci guida giorno dopo giorno e non ci stimola in quel processo nel raggiungere i nostri sogni, i nostri obiettivi, è difficile che riusciamo ad arrivare alla fine. Quindi voglio che anche tu superi la media e fai questo percorso insieme a me. Ovviamente questi video, come gli altri video precedenti, saranno integrati in altri percorsi, però in questo periodo di tempo sai che anche tu avrai questa opportunità. Quindi seguimi e ci vediamo domani col primissimo video. Ciao! Ciao!